Vicchie e frastire savanta. I vecchi e i forestieri si vantano. Capita un po' a tutti di incontrare vecchi o forestieri che si vantano d'aver compiuto ardimentose prodezze e grandi imprese. Ciò accade perché nell'uno e nell'altro caso è difficile trovare qualcuno che possa contraddirli. Per tale motivo essi possono raccontare anche una montagna di frottole.